SENTIMENTI TERZO La Roma risponde con Spartano, in due si precipitano, in tre cascano. Ventinovesimo minuto, testa di Penzo, gol! I naziali cominciano a respirare. Attenti però, dieci minuti, Spartano infila tra una serva di gambe il pareggio. Gol! All'inizio della ripresa, colpo di scena. Ferri alla traversa, attraversa a Puccinelli. Gol! Ma a quanto somiglia a un'auto, gol. Spartano vorrebbe di nuovo mettere le cose a posto, ma questa volta trova sentimenti quarto. Complicazioni in vista, sentimenti terzo fabbrica il terzo gol. L'arbitro inventa un fuorigioco, a cui più tardi metterà una toppa inventando un rigore. Nel frattempo, tiri di Meers e di Puccinelli provocano le più belle parate di risorti. Ed ecco il rigore arbitrario. Circa la regolare marcatura di Gambini, parli il rallentatore. Tira Remodini, gol! Comunque giusta la vittoria della Lazio.